Si chiude un po' il cerchio, ho iniziato veramente nel calcio che contava qui alla Samp con Novellino quando conquistavamo la promozione in Serie A, ero veramente ragazzino e adesso arrivo con un po' più di anni di esperienza però con lo stesso entusiasmo. Ho voglia di rimettermi in gioco anche io dopo quest'ultimo periodo sfortunato a livello societario per il Parma al quale auguro le migliori fortune perché ho trascorso comunque due anni bellissimi e ho voglia di rimettermi in gioco qua e insieme a tutti i compagni cercheremo di fare un'annata degna della Sampdoria. Conosco De Silvestri, conosco Viviano, conosco Angelo Palombo, con tanti abbiamo giocato anche assieme.